Sindaco, iniziamo col chiederle se è soddisfatto di quelli che sono stati gli incontri di questi ultimi giorni in provincia. Sì, possiamo dire che è stato recepito quello che era il nostro messaggio, sia nell'incontro di mercoledì scorso in provincia. Abbiamo chiaramente esposto quelle che erano le problematiche, i disagi del nostro territorio, del territorio di Ancarano, ma che credo che comunque siano anche disagi comuni anche da altri territori. È stata una riunione dove si è deciso di intervenire nell'immediato sulla strada con la riapertura del primo tratto, cioè quello da Via Madonna della Misericordia fino all'incrocio con Via Mazzoni. Successivamente ci sarà un intervento per la sistemazione della frana, che era avvenuta con precedenti calamità, all'ingresso, all'invocco della superstrada a Scolimare. Lei è stato uno dei più critici sulla situazione in generale, le sue posizioni sono state abbastanza intransigenti. Questi incontri l'hanno fatta ammorbidire e soprattutto che idea si è fatta di tutto quello che succede? Ma io al di là delle critiche, perché io capisco chiaramente che oggi siamo tutti in uno stato di totale emergenza. L'ho sempre detto e ribadito, non per questo io voglio assumere una posizione migliore rispetto ad altri enti o ad altre situazioni. Quello che spesso abbiamo contestato è che spesso nell'ultimo periodo, negli ultimi anni, c'era stata questa dimenticanza di questi territori e del territorio del Comune di Ancarano. Credo che questa cosa sia stata una volta per tutte chiarita. Oggi le emergenze sono tantissime, anche nell'incontro che c'è stato ieri in provincia con tutti gli altri sindaci della provincia è emersa questa criticità, questa emergenza assoluta. Oggi probabilmente non sappiamo nemmeno se il Governo centrale ha preso atto di quello che veramente sta succedendo nella provincia di Teramo e non sappiamo nemmeno effettivamente che cosa si voglia fare nell'immediato futuro. Perché il problema, al di là di quelle che sono le proiezioni future, oggi non riusciamo a dare risposte all'imminenza e alla quotidianità. Io credo che sia importante prendere atto, anche per chi deve poi un domani programmare, di quelle che sono le necessità urgenti, quindi infrastrutturalità, manutenzione, strade, ricostruzione, terremoto, ahimè, danni da neve, è una calamità particolare, sono state calamità particolari. Dobbiamo capire e decidere come si vuole agire una volta per tutte. È chiaro che le problematiche ci sono, le confusioni si possono creare, ma occorre una struttura che prenda visione di quello che sta succedendo e che comunque intervenga nell'immediato per dare delle risposte certe, altrimenti di questo passo questo territorio subirà danni attuali e soprattutto futuri.